Buonasera. Nell'attesa del nuovo anno desidero rivolgere gli auguri migliori a tutte le italiane e a tutti gli italiani, a quelli che risiedono nel nostro Paese e a quelli che ne sono lontani, per lavoro o per studio, e sentono intensamente il vincolo di appartenenza alla patria. Ho visitato, anche quest'anno, numerosi territori. Ho incontrato tante donne e tanti uomini. Ho conosciuto le loro esperienze. Ho ascoltato le loro speranze, le loro esigenze. Ho potuto toccare con mano che il tessuto sociale del nostro Paese è pieno di energie positive. Tante persone, ragazzi, giovani, adulti, anziani, solgono con impegno il proprio dovere. Molti vanno anche oltre, pronti a spendersi per gli altri e per la collettività, a soccorrere chi si trova in pericolo o in difficoltà, senza inseguire riconoscimenti o cercare la luce dei riflettori. Con tutti ho condiviso sofferenze e momenti di gioia. Il nostro Paese è una comunità di vita ed è necessario che lo divenga sempre di più. Ci siamo ritrovati uniti in occasione di alcuni eventi che hanno suscitato l'emozione e la partecipazione di tutti noi. Abbiamo vissuto insieme momenti dolorosi. Dall'assassino di Giulio Regeni, mentre svolgeva al Cairo la sua attività di ricercatore, alla morte in Spagna delle nostre ragazze che studiavano nel programma Erasmus, dalla strage di Dacca a quella di Nizza, con nostri connazionali tra le vittime, dal disastro ferroviario in Puglia al terremoto che ha sconvolto le regioni centrali, che hanno provocato tanti morti. Negli ultimi giorni abbiamo pianto Fabrizia Di Lorenzo, uccisa nell'attentato di Berlino, così come era avvenuto sul finire dell'anno scorso a Parigi per Valeria Soresin. E loro familiari desidero rivolgere, a nome di tutti, un pensiero di grande solidarietà che non si attenua con il passare del tempo. Lo stesso sentimento di vicinanza esprimo ai familiari di quanti hanno perso la vita per eventi traumatici, tra questi letante, troppe vittime di infortuni sul lavoro. Un pensiero di sostegno va rivolto ai nostri concittadini, colpiti dal terremoto, che hanno perduto familiari, case, ricordi cui erano legati. Non devono perdere la speranza. L'augurio più autentico è assicurare che la vita della loro collettività continui o riprenda sollecitamente. Ovunque, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nel ritrovarsi insieme. Ricostruiremo quei Paesi così belli e così carichi di storia. Ci siamo ritrovati tutti nel sostegno alle popolazioni colpite e nell'apprezzamento per la prontezza e l'efficacia dei soccorsi. Alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia, ai nostri militari, ai tanti volontari, esprimo la riconoscenza del Paese. Il loro operato è oggetto dell'ammirazione internazionale. Lo stesso consenso avvertiamo per l'impegno delle nostre forze armate nelle missioni di pace in Europa, in Asia, in Africa, in Medio Oriente. Ci siamo tutti rallegrati perché i due fucilieri di Marina, la Torre e Girone, sono finalmente in Italia con i loro cari. Abbiamo condiviso con affetto e soddisfazione il grande impegno e i successi dei nostri atleti alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Come non ricordare l'entusiasmo travolgente di Bebevio. Abbiamo in tante città rievocato i 70 anni della Repubblica e del voto alle Donde. Questo senso diffuso di comunità costituisce la forza principale dell'Italia, anche rispetto alle tante difficoltà che abbiamo di fronte. La comunità, peraltro, va costruita giorno per giorno nella realtà. Il problema numero uno del Paese rimane il lavoro. Nonostante l'aumento degli occupati, sono ancora troppe le persone cui il lavoro manca da tempo o non è sufficiente per assicurare una vita dignitosa. Non potremo sentirci appagati finché il lavoro, con la sua giusta attribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi pienamente cittadini. Combattere la disoccupazione e con essa la povertà di tante famiglie è un obiettivo da perseguire con decisione. Questo è il primo orizzonte del bene comune. Abbiamo tra di noi fratture da prevenire o da ricomporre. Tra il nord del Paese è un sud che è in affanno. Tra città e aree interne. Tra centri e periferie. Tra occupati e disoccupati. Barriere e difficoltà dividono anche il lavoro maschile da quello femminile, penalizzando tuttora le donne. Far crescere la coesione nel nostro Paese vuol dire renderlo più forte. Disuguaglianze, marginalità, insicurezze di alcuni luoghi minano le stesse possibilità di sviluppo. La crescita è in ripresa, ma è debole. Il suo impatto sulla vita di molte persone stenta ad essere percepito. Va ristabilito un circuito positivo di fiducia, a partire dai risparmiatori, i cui diritti sono stati tutelati con il recente decreto legge. Essere comunità di vita significa condividere alcuni valori fondamentali. Questi vanno praticati e testimoniati, anzitutto, da chi ha la responsabilità di rappresentare il popolo a ogni livello. Non vi sarà rafforzamento della nostra società senza uno sviluppo della coscienza civica e senza una rinnovata etica dei doveri. La corruzione, l'evasione consapevole degli obblighi fiscali e contributivi, le diverse forme di illegalità vanno contrastate con fermezza. Le difficoltà, le sofferenze di tante persone vanno ascoltate e condivise. Vi sono domande sociali, vecchie e nuove, decisive per la vita di tante persone. Riguardano le lunghe liste di attesa e le difficoltà di curare le malattie, anche quelle rare, l'assistenza in famiglia agli anziani non autosufficienti, il sostegno ai disabili, le carenze di servizi pubblici di trasporto. Non ci devono essere, cittadini di serie B. Sarebbe un grave errore sottovalutare le ansie diffuse nella società. Dopo l'esplosione del terrorismo internazionale di matrice islamista, la presenza di numerosi migranti sul nostro territorio ha accresciuto un senso di insicurezza. È uno stato d'animo che non va alimentato, diffondendo allarmi ingiustificati, ma non va neppure sottovalutato. Non rendersi conto dei disagi e dei problemi causati alla popolazione significa non fare un buon servizio alla causa dell'accoglienza. L'equazione immigrato uguale terrorista è ingiusta, è inaccettabile, ma devono essere poste in essere tutte le misure di sicurezza e tutti gli sorsi per impedire che nel nostro Paese si radichino presenze minacciose o predicatori di morte. Anche l'anno trascorso le nostre Forze dell'Ordine e i nostri servizi di informazione hanno operato con serietà e competenza perché in Italia si possa vivere in sicurezza rispetto al terrorismo, il cui pericolo esiste, ma si cerca di prevenire. A loro va espressa la nostra riconoscenza. Vi è un altro nemico insidioso della convivenza, su cui in tutto il mondo ci si sta interrogando. Non è un fenomeno nuovo, ma è un preoccupante aumento, quello dell'odio come strumento di lotta politica. L'odio e la violenza verbale, quando vi penetrano, si propagano nella società, intossicandola. Una società divisa, rissosa e in preda al risentimento smarrisce il senso di comune appartenenza, distrugge i legami, minaccia la sua stessa sopravvivenza. Tutti, particolarmente chi ha più responsabilità, devono opporsi a questa deriva. Il web, ad esempio, è uno strumento che consente di dare a tutti la possibilità di una libera espressione e di ampliare le proprie conoscenze. Internet è stata e continua ad essere una grande rivoluzione democratica, che va quindi preservata e difesa da chi vorrebbe trasformarla in un ring permanente, dove verità e falsificazione finiscono per confondersi. Un'altra ferita grave, inferta alla nostra convivenza, è rappresentata dalle oltre 120 donne uccise nell'anno che si chiude dal marito o dal compagno. Vuol dire una vittima ogni tre giorni, un fenomeno insopportabile, che va combattuto e sradicato con azioni preventive e di repressione. Desidero adesso rivolgermi soprattutto ai giovani. So bene che la vostra dignità è legata anche al lavoro e so bene che oggi nel nostro Paese, se per gli adulti il lavoro è insufficiente, sovente precario, talvolta sottopagato, lo è ancor più per voi. La vostra è la generazione più istruita rispetto a quelle che vi hanno preceduto. Avete conoscenze e potenzialità molto grandi. Deve esservi assicurata la possibilità di essere protagonisti della vita sociale. Molti di voi studiano o lavorano in altri Paesi d'Europa. Questa spesso è una grande opportunità, ma deve essere una scelta libera. Se si è costretti a lasciare l'Italia per mancanza di occasioni, si è di fronte a una patologia cui bisogna porre rimedio. I giovani che decidono di farlo meritano sempre rispetto e sostegno. E quando non si può riportare nel nostro Paese l'esperienza maturata all'estero, viene impoverita l'intera società. Nel febbraio scorso, in una università di New York, ho incontrato studenti di ogni continente. Una ragazza ha aperto il suo intervento dicendo di sentirsi cittadina europea oltre che italiana. Tante esperienze di giovani che condividono con altri giovani europei valori, idee e cultura rendono evidente come l'Europa non sia semplicemente il prodotto di alcuni trattati. Un continente che, dopo essere stato per secoli diviso da nemicizie e da guerre, ha scelto un cammino di pace e di sviluppo comune. Quei giovani capiscono che le scelte del nostro tempo si affrontano meglio insieme. Comprendono ancora di più il valore della pacifica integrazione europea di fronte alla tragedia dei bambini di Aleppo, alle migliaia di persone annegate nel Mediterraneo e alle tante guerre in atto nel mondo. E non accettano che l'Europa, contraddicendosi, si mostri divisa e inerte, come avviene per l'immigrazione. Dall'Unione ci attendiamo gesti di concreta solidarietà sul problema della ripartizione dei profughi e della gestione dignitosa dei rimpatri di coloro che non hanno diritto all'asilo. Un cenno alla vita delle nostre istituzioni. Queste sono state concepite come uno strumento a disposizione dei cittadini. Sono i luoghi della sovranità popolare che vanno abitati se non vogliamo che la democrazia inaridisca. All'inizio di questo mese si è esvolto il referendum sulla riforma della seconda parte della Costituzione, con alta affluenza, segno di grande maturità democratica. Dopo il referendum si è formato un nuovo governo. Ho ricevuto, nei giorni scorsi, numerose lettere, alcune di consenso, altre di critica per le mie decisioni. Ho letto con attenzione queste ultime. È sempre bene ascoltare e rispettare le opinioni diverse. Si tratta di considerazioni di persone che avrebbero preferito nuove elezioni subito, a febbraio, per avere un nuovo Parlamento, composto ovviamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato, secondo il risultato del referendum. Ora non vi è dubbio che in alcuni momenti particolari la parola agli elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere con efficacia la loro volontà e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge. Queste regole oggi non ci sono. Al momento esiste per la Camera una legge fortemente maggioritaria e per il Senato una legge del tutto proporzionale. L'esigenza di approvare una nuova legislazione elettorale mi è stata del resto sottolineata durante le consultazioni da tutti i partiti e i movimenti presenti in Parlamento. Con regole contrastanti tra loro, chiamare subito gli elettori al voto sarebbe stato in realtà poco rispettoso nei loro confronti e contrario all'interesse del Paese, con alto rischio di ingovernabilità. Risolvere rapidamente quindi la crisi di governo era necessario sia per consentire al Parlamento di approvare nuove regole elettorali sia per governare problemi di grande importanza che l'Italia ha davanti a sé in queste settimane e in questi mesi. Vorrei rivolgere gli auguri più sinceri a Papa Francesco, auspicando che il messaggio del Giubileo e i suoi accorati appelli per la pace vengano ascoltati in un mondo lacerato da conflitti, essi dato da molte incognite. Cari concittadini, qualche giorno fa nelle zone del terremoto ho ricevuto questo disegno in dono dei bambini della scuola di infanzia di Acqua Santa Terme. Ritrai la loro scuola. Vi è scritto «La solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze per la realizzazione di un sogno comune». Vorrei concludere facendo mio questo augurio e rivolgendolo a ciascuno di voi, perché i sogni dei bambini possano costruire il futuro della nostra Italia. Buon anno a tutti!